Dell'Acqua Santa solamente ricordo il vecchio cinema dell'Acqua Santa che adesso si chiama Igea Lido, ma a quei tempi era un cinema trionfale. Era una vecchia arena, poi ricoperta, diventata cinema, adesso è riqualificato come cinema di prima visione, l'Igea Lido attuale sarebbe. Ecco, questo è il ricordo di infanzia del mio nonno della Borgata che mi portava lui al cinema. Tutto qui.